Nella vicenda Lehman Brothers stiamo intervenendo a favore dei nostri clienti, a tutela e difesa dei loro risparmi. Dieci anni fa, il mio Doris annunciava che Mediolanum sarebbe stata concretamente vicina ai clienti nella crisi Lehman Brothers. Oggi continuiamo ad esservi vicini per dare più soluzioni per i vostri risparmi, gli investimenti, per scegliere il mutuo e per proteggere voi e la vostra famiglia. Dieci anni fa come oggi, consulenti da sempre. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati e anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blu Reti News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra e il governo cerca l'accordo su pensioni e reddito. Risparmio gestito, gli europei giocano in difesa. Bitcoin adesso è crisi nera. Brexit a ogni inglese costerà mille sterline. Banca e il Credit Suisse rafforza l'Italia. È partito l'IT Forum a Milano. Non è questione di decimali. È il messaggio che è arrivato dal governo Conte che si è detto disponibile a una limatura di qualche decimo di punto sulle previsioni di deficit. Se ciò dovesse servire, evitare la procedura di infrazione per disavanzo eccessivo prevista dalle regole europee. L'ipotesi che si fa stada è lo slittamento di qualche mese dell'avvio del reddito di cittadinanza o della riforma delle pensioni che abbassa l'età di uscita dal lavoro. Con i riviossi libererebbero un po' di risorse da destinare agli investimenti come vorrebbe l'Europa. Inversione di rotta per l'asset management europeo è maggiore prudenza tra gli investitori. A ottobre, secondo le rilevazioni di lì, per il risparmio gestito del vecchio continente ha registrato una raccolta netta negativa di 48,6 miliardi di euro. Ma il dato più significativo è che i fondi monetari che hanno un profilo di rischio basso hanno registrato una raccolta netta positiva per 44,2 miliardi di euro. Questo trend ha riguardato anche gli ETF che investono in liquidità che hanno raccolto positivamente per circa 500 milioni di euro. Gli investitori risparmiatori europei insomma giocano in difesa. Pietra tombale sulle criptovalute. La domanda è lecita dato che il crollo del bitcoin non sembra arrestarsi con lo stesso che ha perso oltre un terzo del proprio valore in poco più di una settimana. La criptovaluta è scesa nelle ultime ore sotto la quota, anche psicologica, dei 4 mila dollari. Un collo verticale dai 20 mila dollari della fine dello scorso anno quando la bolla raggiunge il suo massimo e che, secondo gli economisti come Nouriel Roubini o investitori come Warren Buffett che lo ha definito una trappola per topi si arresterà solo con la scomparsa delle criptovalute. Sicuramente a pesare la considerazione che il loro mantenimento ha un elevatissimo e crescente costo energetico per mantenere attiva la rete di computer su cui gira il software alla base di attività di mining delle stesse. Un conto decisamente salato è quello di Brexit. La prospettiva è di un calo di 3,9% del PIL britannico entro il 2030 pari a un costo di 100 miliardi di sterline. Una cifra che rapportata ai cittadini equivale a circa 1000 stelline a testa per ogni abitante del Regno Unito. A deniare questo scenario è lo studio condotto dopo l'accordo raggiunto tra Londra e Bruxelles approvato dai 27 Paesi membri dell'Unione Europea la scorsa domenica. La ricerca rileva che se l'accordo proposto su Brexit diventerà realtà il PIL sul lungo termine subirà un calo del 4% rispetto all'ipotesi di permanenza. Questo significa perdere l'intero contributo annuale del Galles o del settore finanziario a Londra. Importante aumento di capitale per la controllata italiana del Credit Suisse. Il fine è quello di sviluppare il business previsto nel piano triennale e aumentare la redditività della banca. Qualche giorno fa infatti a Milano Stefano Preda presidente del Credit Suisse Italy di cui Stefano Vecchi è amministratore delegato ha guidato l'assemblea straordinaria che ha deliberato una ricapitalizzazione da 139,5 a 170 milioni di euro. Lo scopo si legge nel verbale assembleare quello di aumentare la possibilità di esposizione verso la clientela rispetto a quanto previsto nell'attuale piano strategico 2018-2020. L'aumento di capitale di 30,4 milioni preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia è stato contestualmente e interamente sottoscritto dalla controllante Credit Suisse AG. È iniziata l'edizione milanese di Tifaron 2018. L'evento si tiene presso il Palazzo delle Stelline nei giorni 27 e 28 novembre 2018 sviluppandosi lungo un percorso ricco di temi proposte. Un evento poliedrico dedicato oltre al trading anche agli investimenti, alla consulenza finanziaria, alla formazione al fintech. Nella due giorni molto le conferenze e workshop in programma dalle sei ero tematiche che caratterizzano la manifestazione. Arrivata alla ventesima edizione tra gli appuntamenti più attesi c'è sicuramente la premiazione dei Blue Rating Awards in programma il 28 novembre. Condotta da Marco Muffato, coordinatore di Blue Rating, si aprirà con la tavola rotonda delle 14.30 per poi proseguire con la vera e propria cerimonia delle 16. Consiglio giorno proposto da finanzaoperativa.com e FCA accumulate per banca ACOS con target price di 20 euro dopo apertura in mattinata 14.91. Il gruppo dovrebbe puntare sulla produzione di modelli di Jeep in Italia sul nuovo SUV Alfa come misure preventive finalizzate a saturare linee produttive e ad aumentare i margini nell'area EMEA. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV a guidare la classifica a un prodotto examen e ultima posizione per Fear State. Qui da Blue Rating News è tutto come sempre un buon investimento a tutti quanti voi. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio Consulenti finanziari siete pronti? Parte l'albo aggiornamento contabilità contrattalistica gestione portafoglio Blue Advisor la piattaforma per i consulenti finanziari prova gratis www.blueadvisor.com